Musica Vi inviterei a un ultimo sforzo, siamo stati qua per circa due ore, un ultimo sforzo, poi ci avviamo alla conclusione, ora inviterei qua al tavolo della presidenza il professore Calogero Di Carlo, che è il responsabile per l'università telematica Pegaso, per l'organizzazione dei centri per l'Italia e responsabile per la Sicilia. Vabbè, vedi quale funziona meglio, microfono. Buongiorno a tutti, forse io del microfono non ho bisogno, la mia voce si fa sentire fino all'assù. Parlare dopo che ha parlato il mio presidente Salerno Cataldo, che rappresenta una delle università più importanti, che è nata per ultima in questo nostro sud, in Sicilia, e mi emoziona un pochino, perché io sono cresciuto all'università Corea di Enna, quindi come diceva il presidente, non sapevo che tu eri oggi responsabile dell'università telematica Pegaso. No, non sono responsabile, sono sempre responsabile della Corea. Sì, sì, io parlavo di me, sicuramente. Io non lo sapevo. Ecco, infatti, puoi sentire anche il rettore. Io non sono un accademico, sono un professore a contratto, insegno diritto ecclesiastico in giurisprudenza, mentre nel post laurea mi occupo di criminologia. Perché? Perché nella mia vita, e vorrei essere d'esempio anche a voi ragazzi, ho iniziato a fare il carabiniere. Per 35 anni, come sa il mio presidente, ho svolto diverse mansioni all'interno dell'arma. E per ultimo ho comandato la sezione investigazione scientifica di Palermo, e quindi ecco perché è criminologia. È una passione sin dall'inizio. Sono cresciuto presso l'università Corea di Enna e quella di Siena, molto importante sicuramente. sentire parlare il rettore di Catania e nel sentirle dire che potete andare fuori ed è giusto, e lo dovete fare perché non sia un obbligo, ma perché è una vostra scelta, perché sicuramente tutto quello che avviene qua al sud è di qualità. Abbiamo delle università importanti, a partire da Palermo, Catania, Messina, Enna. E adesso perché no l'Università Telematica Pegaso, che è un'università che nasce dieci anni fa a Napoli e che negli ultimi anni sta investendo moltissimo in Sicilia con 13 sede. Io dico sempre che non siamo la concorrenza, anzi vogliamo essere di supporto alle università residenziali. A Palermo abbiamo un rapporto eccezionale, sia con Roberto Lagalla che col nuovo rettore, Fabrizio Migari. Questo per testimoniare che noi metteremo a disposizione tutto quello che noi abbiamo, la tecnologia, che è quello, il futuro, la rivoluzione del web, lo metteremo a disposizione delle università che vogliono fare qualcosa insieme. Noi a Palermo stiamo facendo un progetto per recuperare 9.000 fuori corso. 9.000 studenti sono fuori corso. Ecco quei numeri che stamattina avete sentito, che sicuramente vi hanno un pochino annoiato, però avete capito che la situazione è veramente seria. Però siccome noi italiani siamo quelli che sappiamo rimboccarci le maniche e ricominciare da capo, e voi siete il futuro di questa nazione, e quindi fidiamo molto nelle vostre scelte e quello che sarà il domani. Certo, le università stanno attraversando un periodo molto di crisi profonda, non bastano più i fondi che sono stati sempre nel tempo stanziati. Ecco, c'era quella politica forte che era presente, che ha dato la possibilità di far nascere quella università a Enna, grazie al Presidente Cataldo e qualche altro a Enna, anche con le barricate verso l'università nelle autostrade, con mezzi pure molto forti, però oggi è una grande realtà e bisogna dargliene atto. Ragazzi, è un momento particolare questo, sicuramente. Voi, come diceva il Rettore di Catania, sarete tra qualche mese dovete scegliere la strada vostra che dovete intraprendere. Non è facile, sicuramente. Quella pare opportunità di cui si parla tanto non c'è, sicuro. Però sta a voi scegliere, sta a voi dare un futuro a voi stessi. Ascoltate, avete ascoltato tutti e avete capito che dovete essere voi a scegliere quello che dovete fare. Oggi inauguriamo a Ragusa la tredicesima sede dell'Università Telematica Pegaso, proprio in questa piazza, di fronte a questo meraviglioso Camera di Commercio. L'Università Telematica Pegaso ha acquistato anche la Mercatorum, che è l'Università della Camera di Commercio in Italia. Siamo all'80% proprietari da qualche mese. Quindi qua ci sentiamo a casa nostra. Grazie a Giorgio, che oggi è anche lui un docente dell'Università Telematica Pegaso, che ha avuto questo coraggio di mettere insieme tutti questi professori e queste personalità per parlare dell'Università del Sud. Si parla sempre del Sud come se fossimo gli ultimi. Io credo che siamo stati sempre i primi e da qui partirà quella rivoluzione giusta per poter crescere e far cambiare questo nostro Paese. grazie soprattutto a questi rettori lungimiranti che non stanno un attimo fermo, che pensano sempre a voi studenti, ma a quello che sarà dopo, il lavoro. Perché la cosa più importante di questa Repubblica Italiana è il lavoro che non c'è. Però sono sicuro, sono sicuro che tutti noi insieme faremo di tutto affinché questo cambi e possa dare un futuro migliore a tutti voi. Io porto il saluto del mio Presidente Danilo Iervolino, un giovane a 37 anni che ha avuto il coraggio a 27 di avere il coraggio a Napoli, al Sud, perché le nostre università private nascono sempre al Nord o da Roma a salire. Ha avuto il coraggio di investire in un'università che a quell'epoca sicuramente non pensava mai che a 10 anni poteva avere 35.000 studenti in tutta Italia. Abbiamo aperto le sedi anche all'estero, quindi la nostra piattaforma che è 3.0 e la nostra formazione, i nostri docenti che sono di livello internazionale e nazionale, sono tutti docenti di tutte le università migliori d'Italia, a partire da Tesauro che è stato Presidente della Corte Costituzionale a scendere. Quindi anche noi siamo nella possibilità di poter offrire a quel ragazzo che abita in un Paese sperduto di questa nostra Sicilia che oggi ci vede penalizzati anche sotto l'aspetto della comunicazione tra un Paese e l'altro. Catania, diceva il Rettore, per arrivare qua ci ha messo un'ora. Io da Palermo ieri sera ci ho messo 4 ore arrivare qui. 4 ore! Un'ora! Io credevo che il mio Presidente stamattina arrivando alle 11.30 a Catania alle 12.30 poteva arrivare qui. Invece no, mi pare che ci vuole qualche cosa in più. Sicuramente. Arriverà per l'inaugurazione. e spero che di pomeriggio anche lui possa fare un intervento in questo convegno. Porto il saluto anche di Roberto Lagalla che oggi è impegnato all'Agrigento in una riunione in una di quelle università decentrata come diceva il nostro Presidente Cataldo. Doveva venire l'Icata Calogero non è stato possibile. Lui lascerà fra qualche mese mi pare il 30 di ottobre l'incarico a Fabrizio Micari con il quale già abbiamo iniziato ad avere un rapporto di collaborazione. Spero che anche a Catania questo possa avvenire perché la settimana scorsa abbiamo inaugurato una sede prestigiosa presso Palazzo del Toscano in Vietnea e spero di venire a trovare caro Magnifico Rettore per poter vedere se si può fare qualcosa insieme e far capire ai giovani che noi non vogliamo essere la concorrenza di quelle università tradizionali che hanno una storia e che sicuramente non perderanno mai quella importanza che hanno avuto durante la nostra storia. Grazie a tutti voi e sicuramente ci vedremo più spesso in questa splendida città che è un po' decentrata ma che amo da tanto tempo e che vengo sono stato coinvolto ultimamente con i tracusani del mondo siamo stati gli sponsor da due anni e credo che resteremo più spesso da queste parti per essere di supporto a tutti voi grazie bene allora vi dovrei dare tre appuntamenti il primo nel pomeriggio alle 17 continueremo con la seconda sessione del nostro convegno è una sessione importante perché è sulla università locale attraverso gli interventi del professore Uccio Barone presidente del dipartimento di scienze politiche di Catania ripercorreremo la storia di vent'anni di presenza dell'università a Ragusa attraverso l'intervento del preside Nunzio Zago l'esperienza di lingue e le prospettive di lingue e con l'intervento dell'avvocato Cesare Borometi il ruolo che il consorzio sta giocando e vorrà giocare per quel discorso che stiamo facendo ora che l'università è bella e non può essere impossibile questo è il primo appuntamento a salire un altro appuntamento alle 15.30 per chi vuole facciamo una passeggiata ad Ibla mirata nel senso che andiamo a visitare il complesso di Santa Teresa dove è allocata la facoltà di lingue quindi ci spostiamo direttamente ad Ibla e facciamo questa passeggiata in modo tale da rientrare alle 17.30 il terzo appuntamento ve lo do fra un'ora alle 12.30 il presidente di Unipegaso ci invita alla inaugurazione della sede di esami di Ragusa qua in Piazza Libertà io vorrei ancora una volta ringraziare tutti i presenti i professori in modo particolare che hanno accolto l'idea di pensare questo convegno come anche un momento di orientamento attivo per i giovani e tutti gli ospiti che ci hanno onorato con la loro presenza grazie ancora ci vediamo quindi nel pomeriggio per una sessione ancora interessante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti